Mi guarda, io lo saluto. E non raccontiamo a nessuno che abbiamo il culetto tutto bagnato. No, non lo raccontiamo assolutamente. Però qua dietro, guardate un po'. Il soggetto di oggi è il mare d'inverno. Inverno perché regala pace, perché ha un rumore tranquillo e soave. Perché ho il telefono che sta suonando in tasca. Perché i tuoi figli stanno per cadere in acqua, ve lo sai? E si faranno il bagno a Zona Unabì. Simo, ragazzi, lasciali, non fa niente, sono bambini. Eh sì, va bene, perfetto. 40 di febbre domani. Il mare d'inverno è perché è grigio, così come un violino, è più veloce d'estate. No. No, sì. No, ma no, dai, non c'è nessuno che... Ci sono i turisti, non c'è nessuno. Questo è il mare d'inverno di Grado. Sei sicura? E dove è Grado? Qui. E qui? Qui, qui. Ma dov'è? In Trentino o in Sicilia? Grado è in provincia di Gorizia, vicino a Trieste, nel Triuli Venezia Giuli. Ed è perché è particolare? Perché è particolare? Grado? Perché è un'isola. E cosa c'è di particolare rispetto alle altre isole? Ai tempi di Attila, quando Attila... Prego, di nuovo, 2.0, perché ha una laguna di Grado, perché è piena di isolotti, di casoni, di festatori, di canne, di fango, di pesci. E' un nuovo di queste parti, per cui non è un riempio nostro. Dobbiamo fare un teleromanzo, che dura dieci ore? No, perché dopo tagli, metti quello più bello. Salutiamo! Ciao! Il mare d'inverno! Ciao! Ciao!